Nicoletta Veri lascia la Lega. È stato lo stesso assessore alla salute della regione Abruzzo a comunicare in una nota stampa stringata, ma dall'indubbia valenza politica, di aver depositato le sue dimissioni dal partito di Matteo Salvini. Nella dare il suo commiato al carroccio, Nicoletta Veri si è focalizzata in particolar modo sui risultati raggiunti nel corso del suo mandato da assessore, dalla gestione dell'emergenza pandemica alla recente approvazione della nuova rete ospedaliera regionale. Qui si agganciano anche gli accordi di programma per la realizzazione di nuovi nosocomi. Veri, di contro, non ha comunicato i motivi della decisione di lasciare la Lega, affermando però che in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, proseguirà il suo impegno politico nel centrodestra, a sostegno della candidatura a presidente di Marco Marsilio.